Pescara città contemporanea, una porta aperta ai sogni, è il progetto che il Comune Adriatico ha presentato al Ministero della Cultura per candidarsi a Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026. Ieri a Roma l'audizione dei cinque comuni finalisti, Carrara, Gibellina, Gallarate e Todi, oltre appunto a Pescara. Maria Rita Carota, vice sindaco del Comune di Pescara. Il nostro progetto è molto complesso, quello della città di Pescara, ma soprattutto è un progetto di trasformazione territoriale, di trasformazione urbana. Sono stati mappati i luoghi della città in cui sarà sicuramente svolta un'attività molto specifica per valorizzare ancora di più la nostra tradizione di arte contemporanea. Una città che già nei decenni scorsi è stata al centro dell'arte italiana e internazionale. Ricordiamo per esempio la grandissima esperienza di fuori uso che ha fatto un po' da spartiacque proprio per questa idea anche di arte che va a modificare i luoghi, che va a rigenerare i luoghi. E quindi crediamo che questo progetto di grande impatto sulla città abbia potuto riscuotere molto gradimento da parte della commissione esaminatrice. Tra l'altro noi ci siamo presentati come pronti anche non solo nei contenuti, ma anche dal punto di vista della sostenibilità economica del progetto. Sono stati individuati anche i fondi finanziamenti necessari per poter produrre e realizzare questo progetto e su questo tengo molto a sottolineare la grande vicinanza che ci è stata data e ci continua a essere data dalla regione Abruzzo. Il risponso del Ministero della Cultura è atteso per la mattinata del 31 ottobre. Il progetto proposto punta a coinvolgere l'intera area metropolitana pescarese con una sorta di prova generale per il settore cultura in vista della nuova Pescara. Il nostro progetto ha come punta di forza anche il coinvolgimento di tutto il territorio, non solo quello cittadino, ma in primis quello della costituenda nuova Pescara, quindi con il coinvolgimento diretto di Montesilvano che di Spoltore, ma dei comuni anche della provincia in cui la sinergia è già in atto da tempo. Un'altra connotazione particolare è quello del coinvolgimento dei giovani, quindi attraverso l'esperienza del passato e il fermento che c'è anche in città negli ultimi anni, noi puntiamo a intercettare l'interesse dei giovani. Siamo certi che questo progetto comunque vada, costituirà un vero e proprio master plan culturale per la nostra città, quindi un punto di ulteriore partenza per progetti di valorizzazione della cultura e dell'arte in città.